Benvenuti, ben ritrovati. La notizia del giorno ci porta a parlare di questi viaggi da VIP per i migranti. Parliamo di traffico di persone, ovviamente. A Gestilo era un gruppo che operava a Marsala e in Tunisia. Il gruppo è stato smantellato. 12 gli indagati. Altro che barconi che rischiavano di affondare alla prima onda che incontravano, gommoni fatiscenti e stracarichi che imbarcavano acqua, per i migranti clandestini che raggiungevano le coste trapanesi, venivano organizzati i viaggi da VIP. Bastava mettere mano al portafoglio e sborsare cifre che variavano dai 3 ai 6 mila euro. Ad organizzare le traversate di esseri umani, un gruppo composto da due cellule e stretto contatto tra loro. Una operava a Marsala, l'altra invece. In Tunisia il sodalizio è stato smantellato all'alba di oggi a conclusione di una complessa indagine coordinata della direzione distrettuale antimafia. In stato di fermo sei italiani e sei tunisini ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A condurre l'attività investigativa le squadre mobili di Palermo e di Trapani, il personale del servizio centrale operativo e della sezione investigativa del capoluogo siciliano. Il gruppo, che operava già a partire dall'agosto del 2022, faceva arrivare sul litorale marsalese migranti che provenivano dalla Tunisia. Viaggiavamo come se fossimo vippi, il racconto di alcuni testimoni. Il servizio di trasporto, infatti, era rapido e confortevole grazie a natanti dotati di motori di grossa cilindrata. A bordo non più di 20 migranti per volta. Al timone esperti piloti che conoscevano alla perfezione la rotta da seguire. La cellula marsalese, composta da italiani e tunisini, aveva il compito di mettere a disposizione natanti e di reclutare gli scafisti scelti, soprattutto tra tunisini che vivevano in Italia. Tra i componenti, un tunisino richiedente protezione internazionale, indiziato di essere uno dei principali promotori dell'organizzazione, nonché ritenuto dagli esiti emersi dalle attività di indagine, un ex appartenente alla polizia tunisina. Era lui ad avere contatti con il capo della cellula tunisina. Quest'ultimo procacciava i migranti, decidendo condizioni e prezzo del trasporto dalle coste settentrionali della Tunisia a quelle siciliane. Frattanto, nel corso delle indagini, erano già stati arrestati otto presunti scafisti, tutti di nazionalità tunisina, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli arresti, in flagranza, sono stati eseguiti nel corso di quattro distinti sbarchi avvenuti sulle coste marsalese, rispettivamente il 29 giugno, il 14, il 24 agosto e il 15 settembre. Quattro di loro sono stati indagati anche per resistenza a navi da guerra, avendo tentato la fuga, nonostante l'intervento di navi della Guardia di Finanza, giunte in soccorso dei natanti. In un'occasione, gli scafisti avrebbero ordinato di sparare contro la nave militare dei razzi luminosi. I migranti, che il suo dalizio avrebbe introdotto clandestinamente in Italia, sono 73, tra cui 12 minorenni e 6 donne. Tra i clandestini, 19 sono stati tratti in arresto per reingresso illegale nel territorio nazionale. Inoltre, quattro migranti sono stati arrestati in esecuzione di un provvedimento definitivo di condanna dell'autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti. La polizia ha anche eseguito in occasione degli arresti il sequestro di quattro gommoni, tutti natanti messi a disposizione dalla cellula italiana attiva a Marsala. Dal complesso delle acquisizioni investigative sarebbe emerso il passaggio di una somma di denaro di circa 90 mila euro a favore di un indagato italiano ad opera di uno dei promotori della cellula tunisina. Tutte le altre notizie tra poco con la prima edizione del Tg Sud. Il titolo di oggi, ecco i commissari. Il Tg Sud chiama Nord, si organizza in provincia di Trapani e nomina appunto il comitato dei reggenti. Invece c'è stato un incontro in Capitaneria per quanto riguarda Favigliana con Guardia Costiera e il Comune insieme per regolamentare la gestione del mare e dei porti nelle isole Egadi durante la stagione estiva. Anche Trapani celebra il Braille domani alla De Stefano, giornata dedicata ai non vedenti. Per gli spettacoli, parleremo di questo compleanno cubisito che è uno spettacolo di beneficenza che è andato in scena ieri all'Arison e stasera si replica. Poi per lo sport, Mobio e Pugliatti in nazionale. I due squali della Trapani Shark saranno impegnati nelle rispettive nazionali della Costa d'Avorio e del Venezuela. L'approfondimento lo dedichiamo a questo giallo al cimitero di Trapani. Abbiamo intervistato la signora che non ha trovato più i resti della madre al cimitero di Trapani e appunto ha presentato regolare denuncia ai carabinieri. Ma intanto apriamo con la politica perché c'è il movimento politico che fa capo al sindaco di Tormina, nonché deputato regionale onorevole Cateno De Luca, Sud Chiamenord, che si organizza nominando i nuovi commissari reggenti per la provincia di Trapani. Ieri sera si è riunito il coordinamento provinciale di Sud Chiamenord della provincia di Trapani composto da tutti i coordinatori dei comitati cittadini. Durante l'incontro il coordinamento ha preso atto dei comitati cittadini già costituiti a Trapani e nei vari comuni della provincia. Si è quindi proceduta la nomina di tre commissari al fine di completare la strutturazione del movimento anche negli altri comuni e successivamente eleggere la segreteria provinciale. I commissari nominati sono Michele Galfano, Ennio Milano e Matteo Bommarito a cui è stato affidato il compito di guidare questa fase e raggiungere gli obiettivi prefissati nel minor tempo possibile. Il coordinatore regionale Danilo Luggiudici ha dichiarato sono fiducioso nel lavoro dei commissari nominati. Il loro impegno sarà cruciale per consolidare la presenza di Sud Chiamenord in tutta la provincia di Trapani. Confido nella loro determinazione nel portare avanti il percorso intrapreso e contribuire così alla crescita del movimento sul territorio. Il movimento Sud Chiamenord esprime piena fiducia nei confronti dei commissari designati e augura loro buona fortuna nel completare il percorso avviato. Il sindaco di Favignana, Francesco Forgione, ha incontrato il comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, Guglielmo Cassone. Un incontro che è servito a fare il punto su alcune importanti problematiche legate soprattutto all'aumento delle persone e dei traffici in estate. Certamente. Vediamo. Su nostra richiesta si è tenuto l'incontro con i vertici della Capitaneria di Porto di Trapani, presente il comandante Cassone e i vertici della Capitaneria provinciale e di Favignana. Per affrontare i problemi imminenti dell'estate, affrontarli per tempo, i problemi dei flussi di visitatori nei nostri porti, i problemi delle gite nelle isole Egadi con un afflusso da regolamentare soprattutto tra Favignana e Levanzo, la gestione del porto nei momenti cruciali dello sbarco incrociato tra navi, aliscafi e barche di porto e il problema dei controlli a mare. Abbiamo deciso di continuare a intensificare questi incontri in modo da regolamentare al meglio sia la gestione del mare che la gestione delle aree portuali, sapendo che nell'estate per noi si registra una moltiplicazione dell'afflusso di visitatori e di turisti che non appari negli altri porti della provincia di Trapani. Abbiamo riscontrato una grande disponibilità, era presente anche il direttore dell'area marina, Livreri Consoli, in modo che l'attività incrociata di controllo a mare tra la capitaneria di porto e l'area marina con l'acquisizione nel periodo estivo anche dei vigili a mare consenta una migliore regolamentazione, un migliore controllo delle nostre coste e dei nostri mari. A Salemi invece è stato firmato un protocollo d'intesa per la campagna denominata Scuole Sicure. Vediamo di che si tratta. Il prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ed il sindaco del comune di Salemi, Domenico Venuti, hanno siglato un protocollo d'intesa per dare avvio alla campagna Scuole Sicure per l'anno scolastico 2023-2024. Finanziata dal Ministero dell'Interno, questa iniziativa mira a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Il progetto, elaborato dal comune di Salemi e approvato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, coinvolgerà attivamente le componenti del sistema di sicurezza, le famiglie degli studenti e tutta la società civile. Tre istituti scolastici nel territorio comunale saranno particolarmente coinvolti. Il Liceo Classico Statale Francesco D'Aguirre, l'Istituto Tecnico Commerciale e l'Istituto Comprensivo Statale Garibaldi Paolo II. Le misure previste includono l'ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana con nuove telecamere per monitorare le zone esterne degli istituti, l'intensificazione delle attività di controllo tramite personale di Polizia Municipale e percorsi formativi di prevenzione e sensibilizzazione sul consumo di droga attraverso incontri con gli studenti. Uno sforzo congiunto che mira dunque a garantire un ambiente sicuro e protetto per gli studenti durante il loro percorso educativo. A Dierice invece è stato attivato lo sportello telematico polifunzionale. Si tratta di un importante passo avanti nell'ottica della digitalizzazione. Vediamo. Il comune di Dierice nell'ambito della strategia di sviluppo agenda urbana ha attivato lo sportello telematico polifunzionale. Si tratta di un servizio attivo 24 ore su 24 che consente al cittadino di poter presentare online tramite il sito istituzionale pratiche richieste ma anche segnalazioni. Attraverso il nuovo sportello facendo semplicemente accesso tramite SPID o CE sarà infatti possibile attivare numerosi progettimenti tra cui quelli relativi ai servizi demografici, ai tributi, ai servizi civiteriali, alla Polizia Municipale e alla Segreteria Generale. Sarà inoltre possibile effettuare pagamenti tramite Pagopa e comunicare con l'amministrazione mediante apposita sezione per richieste di accesso agli atti, per esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati personali ma anche per trasmettere comunicazioni generiche. Lo sportello telematico che questo comune ha voluto chiamare sportello amico è raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale del comune. Le pratiche presentate attraverso lo sportello telematico che saranno assunte in maniera diretta al protocollo generale sostituiranno completamente nel tempo quelle in formato cartaceo e ciò non soltanto consentirà di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino ma anche ai lavori d'ufficio che nel tempo vedranno ridotto l'afflusso dell'utenza. Inoltre questo portale, sfruttando le nuove potenzialità di raccolta ed elaborazione delle informazioni consentirà di dematerializzare ulteriormente i procedimenti amministrativi semplificandoli e rendendoli ancora più trasparenti. In definitiva si tratta di un imponente ulteriore passo in avanti che il comune di Erice compierà nell'ottica della transizione al digitale che rappresenta il futuro ma che è già parte integrante del nostro presente. Tutte le altre notizie tra poco nel prossimo blocco informativo. Adesso ci soffermiamo sulla giornata del Braille che sarà domani poi andiamo a vedere questo spettacolo con il regavato devoluto in beneficenza che si è tenuto al cinematato Arison e via via andiamo verso la sezione sportiva con Mobio e Pugliatti, i nostri due squadri che sono stati chiamati nelle rispettive nazionali. Si celebra la diciassettesima giornata nazionale del Braille in coincidenza con la giornata mondiale della difesa dell'identità linguistica promossa dall'UNESCO. Vediamo di che si tratta in questo servizio di Valeria Marrona. Ricorre oggi la giornata nazionale del Braille quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti. Tante le iniziative promosse dal Consiglio regionale dell'UIC nelle sedi territoriali siciliane e domani presso i locali dell'Istituto Comprensivo Antonino Di Stefano si svolgerà un incontro ed un concorso di disegno in collaborazione con il Lions Club Trapani rivolto agli studenti della scuola per celebrare le diversità e promuovere l'uguaglianza. A Trapani praticamente il Lions Club di Trapani ha organizzato questa giornata insieme all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che è presieduta dal signor Antonio Struppa e insieme abbiamo cercato, stiamo cercando di dare enfasi a questa giornata perché tutti riusciamo a capire che un linguaggio che riesce a migliorare la qualità della vita delle persone non vedenti e ipovedenti è importantissimo. Noi spesse volte abbiamo fatto donazione di targhe proprio nei musei della città per migliorare il turismo e migliorare soprattutto la fruizione di alcuni luoghi che evidentemente sarebbero impediti in qualche maniera a queste persone che hanno difficoltà visive. Quindi appuntamento domani alla Lamagna dell'Istituto Comprensivo Antonino Di Stefano per lanciare questo concorso per i ragazzi. Per i ragazzi sicuramente sensibilizzarli su questo tema perché ovviamente è una qualità della vita che deve essere migliorata per le persone che sono non vedenti ma evidentemente bisogna fare anche una sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi che hanno bisogno di fare anche dei controlli periodicamente in maniera tale poi da non ritrovarsi con una patologia grave e quindi la prevenzione è importante. Il messaggio è anche quello che lanceremo domani oltre ad approfondire il tema della vista anche il tema della prevenzione. Esplorare il passato, una guida culturale per adulti e bambini è un'iniziativa al Parco archeologico di Seggessa. Domenica 25 febbraio il Parco archeologico di Seggessa offrirà un'opportunità unica per adulti e bambini ovvero quella di esplorare il passato attraverso una visita guidata speciale. Intitolata L'archeologo racconta il Tempio Dorico di Seggessa questa esperienza educativa condurrà i visitatori in un viaggio attraverso le antiche rovine del Tempio offrendo loro una panoramica affascinante della storia ma anche dell'architettura dell'antica colonia Elima. Il Tempio Dorico di Seggessa è infatti uno dei pochi esemplari ancora esistenti di questa magnifica struttura architettonica ed è considerato uno dei più eleganti e ben conservati. Durante la visita si avrà l'opportunità di immeggersi nelle coordinate storico-geografiche di Seggessa e di scoprire le tradizioni storiche legate all'origine dei Seggessa grazie alle spiegazioni di un archeologo della cooperativa Cop Culture. L'esperienza non si limiterà ad una semplice passeggiata tra le rovine i visitatori infatti saranno guidati attraverso un viaggio nel tempo imparando che il Tempio Dorico in pietra ha in realtà avuto un'origine linea e che ogni elemento scolpito ha avuto una funzione portante e precisa. Si avrà anche l'opportunità di ascoltare i risultati delle ultime scoperte riguardanti l'attribuzione del culto all'interno del Tempio arricchendo ulteriormente la loro comprensione del contesto storico ma anche di quello religioso dell'epoca. Un'occasione unica di scoperte ed apprendimento ma anche la possibilità di sviluppare un profondo apprezzamento per la cultura e la storia del territorio. Parliamo di spettacoli. Buona la prima si potrebbe dire in effetti così è stato per lo spettacolo che è andato in scena ieri sera a Cine a Teatro Arison. Compleanno, Cubi, sito messo in scena per accogliere fondi da destinare ad associazioni del territorio. Vediamo. Un gruppo di attori per caso ma che con grande passione e dedizione hanno saputo mettere in scena uno spettacolo di tutto rispetto. Sono i componenti del gruppo Foglia Teatro o Foglia Teatro e ieri sera hanno riempito l'Arison di Trapani con il loro spettacolo teatrale intitolato Compleanno Cubisito. Una commedia brillante in due atti che ha fatto divertire tutti i presenti al cineteatro. Una foglia creativa che ha consentito di raccogliere fondi da destinare in beneficenza ad associazioni che si occupano di ricerca nel campo della sclerosi multipla. E non solo. Un esperimento che ha convolto stamattina alcune scuole del capoluogo che stasera vedrà la seconda messa in scena ancora una volta al Cineteatro Aristone e ancora una volta con il ricavato destinato in beneficenza. Foglia a teatro dunque ma con il cuore d'oro. È appena terminata, è appena terminata un'esperienza fantastica. La prima del Compleanno Cubisito grazie a tutti questi ragazzi, a quelli che non vedete qua e sono ancora nei camerini, a Danilo, Marcio. Non voglio nominare neanche nessuno perché poi dimenticherei qualcuno. Ci siamo domani, ci siamo domani mattina. Vieni, vieni, vieni anche tu. Ci siamo domani mattina per le scuole. Saremo domani sera per la seconda replica che minaccia un ulteriore sold out. Affrettatevi a comprare biglietti. È stato tutto fantastico. Però il mio ringraziamento è di tutti noi, va alle associazioni che abbiamo sostenuto intanto, che lavorano come pazzi. E poi a questi pazzi che sono venuti a vederci, ci dicono che si siano divertiti, ci dicono che sono stati entusiasti e non vediamo l'ora di vedere quelli che verranno domani. Esatto. E domani sera ci sono ancora altri posti disponibili. Ancora posti. Affrettatevi, correte al Teatro Arison, al Botteghino, vi aspettiamo. Nessuno canta più per strada. È il titolo del nuovo libro del giornalista Tony Capozzo che è stato presentato ieri nell'ambito della rassegna Trapani in Contra. Una raccolta di articoli che raccontano l'Italia degli anni Ottanta, una narrazione degli eventi che hanno cambiato le sorti del paese. Non un'operazione nostalgia però ci tiene a sottolineare il giornalista e scrittore Tony Capozzo, ospite ieri della rassegna letteraria Trapani in Contra. Quegli anni Ottanta sono stati, allora non lo sapevamo. Tutti quanti vivono i grandi mutamenti senza averne piena consapevolezza al momento. In cui è finita l'Italia con la contadina, l'Italia del boom, della ricostruzione, del miracolo economico. E' incominciata forse anche a finire la prima repubblica che poi è tramontata nel decennio successivo. E abbiamo incominciato a essere quello che siamo oggi, né bene né male. Nel 90, oltre ad essere l'anno dei mondiali di calcio in Italia, è anche l'anno in cui c'è il primo telefonino, che allora era un marchigegno strano e per pochi molto pesante. lì è cominciato a cambiare. Siamo stati testimoni di un cambiamento grande, perché ci sono i primi computer, naturalmente, che sono grossi, vistosi e ancora lenti. Però l'Italia comincia a cambiare, non solo l'Italia, ma in quegli anni. E' la fine anche di... Il mio non è un libro nostalgico, è anche la fine, per fortuna, del terrorismo politico, le brigate rosse, quelli che sono stati chiamati gli anni di piombo. Però è un mondo che è cambiato. Nella sua lunga carriera Capuozzo ha anche raccontato i conflitti dimenticati e oggi offre la sua chiave di lettura sulle guerre che attualmente insanguinano l'Ucraina e il Medio Oriente. Io nella mia vita mi sono occupato spesso di guerre dimenticate. Oggi non possiamo permetterci di dimenticarla, perché sono delle guerre che rasentano e già prevedono delle complicazioni internazionali, dei coinvolgimenti. A giorni comincerà una missione navale dell'Unione Europea, tra l'altro guidata dall'Italia nel Mar Rosso. Quindi pochi giorni fa è stato contabilizzato il buco creato dalla fine del flusso di gas russo verso l'Italia. È stato contabilizzato in 4 miliardi e mezzo di euro. Non possiamo permetterci di dimenticarlo. Sono guerre che indignano, perché come al solito, come in tutte le guerre a pagare, sono i civili. Mai chi la guerra l'ha voluta, chi la guerra l'ha costruita. E preoccupano perché inevitabilmente in un mondo più piccolo, oggi con la globalizzazione, sono guerre che rimbalzano non solo sulle nostre coscienze, ma anche sulle nostre tasche. L'informazione continua come sempre anche sul nostro sito ufficiale www.telesudweb.it dove trovate queste e tutte le altre notizie della giornata. Se invece vi va di stare con noi questa sera alle 20.30 sul nostro gruppo editoriale spazio al talk show dedicato alle DMO siciliane realizzato alla BIT di Milano. Alle 23 invece trasmetteremo il talk show sul turismo e sulle infrastrutture della Sicilia occidentale sempre dalla Fiera Internazionale del Turismo di Milano. E poi alle 19.40 ovviamente c'è l'edizione serale del nostro TG Sud. Tra poco lo sport. Chiamate in nazionale in casa Trapani Shark che domenica non scenderà in campo. Si tratta di Joseph Mobio e di Fabrizio Pugliatti che giocheranno rispettivamente con le maglie della Costa d'Avorio e del Venezuela. Queste le parole di Mobio ai microfoni societari. Settimana di soli allenamenti in casa Trapani Shark che domenica non scenderà in campo. Infatti la gara esterna di 100 originariamente fissata in calendario nel prossimo weekend è stata posticipata a mercoledì 10 aprile alle 20.30 a causa degli impegni con le rispettive nazionali di Joseph Mobio con la Costa d'Avorio e Fabrizio Pugliatti con il Venezuela impegnato nel doppio confronto con la Colombia per le qualificazioni alla prossima Coppa America. Mobio invece svolgerà un paio di allenamenti a Parigi meta successiva in La Cairo dove disputerà un quadrangolare con i padroni di casa dell'Egitto Madagascar e Repubblica Centraficana valido per la qualificazione alla Coppa d'Africa. Queste le sue parole prima di partire. Per qualche giocatore la nazionale è un peso. Tu come la vivi? La vivo come un'occasione molto importante per far bene è un'occasione per far bene davanti alle persone in Costa d'Avorio che guarderanno le partite ed è sicuramente motivo di grande responsabilità. Come vivi questo fatto di essere un po' ivoriano e un po' italiano? Sicuramente è una bella cosa conoscere due culture completamente diverse e poter dire di sentirsi sia dell'una che dell'altra. Quindi penso che sia una ricchezza e sia motivo di vanto sicuramente. I tuoi compagni della Costa d'Avorio dove giocano? La maggior parte di loro giocano in Francia tra la prima e la seconda categoria ma ce ne sono altri sparsi nel mondo tra la Svezia, la Spagna, gli Stati Uniti, sono un po' ovunque diciamo. Raccontaci un po', tu prendi un aereo e vai? Parigi perché saremo lì fino al 21, poi dal 21 al 26 in Egitto, al Cairo. Tre partite contro Madagascar, Egitto e Repubblica Centrafricana. Che valgono per la qualificazione in Coppa d'Africa? La qualificazione alla Coppa d'Africa del 2025. Cosa racconterai ai tuoi compagni di squadra di Trapani? Sicuramente racconterò che sono in un posto, in un bel posto dove il basket è rinato, dove c'è un grande entusiasmo e dove stiamo facendo le cose in modo migliore e dove spero che andrà a finire tutto bene. In bocca al lupo davvero a Joseph Mobio. Nuova stagione sportiva della Pro Bike Erice e risultati che sono immediatamente arrivati. Nei nostri studi ospite il responsabile tecnico della società Giovanni Messina. L'intervista è di Mirko Dittà. Con Giovanni Messina, responsabile tecnico della Pro Bike Erice, è iniziata una nuova stagione, però sono arrivati già i primi risultati. La stagione è appena iniziata, abbiamo già fatto due gare, è iniziata pure abbastanza bene perché abbiamo avuto tra le ragazze la prima prova che si è svolta a vittoria, valevole per la Coppa Sicilia di XCO, è arrivata prima assoluta, battendo anche le ragazze che sono di una categoria superiore. E poi abbiamo avuto un altro ragazzo junior che è arrivato terzo, però si è giocato tutto fino all'ultimo, fino all'ultimo metodo in pratica. Poi domenica abbiamo avuto un'altra gara, anche lì abbiamo avuto la conferma sempre della ragazza, che quest'anno penso dimostrerà che è la più forte a livello siciliano. E poi c'è un altro ragazzo che è esordito domenica, è arrivato secondo fra gli under 23. E domenica apremmo l'ennesima gara perché in questo momento inizia un tour de force che ci porterà fino a giugno a più di 13 gare in tutto l'arco della stagione. E niente, abbiamo programmato tutto, speriamo che i risultati ci sorridano, più avanti inizieranno anche a correre i più piccoli perché in questo momento abbiamo solo i ragazzi che sono junior o under che corrono e più avanti ancora inizieranno anche i più piccoli che avremo un campionato interprovinciale e domenica 3 marzo qui a Derice, al parco di Martogna, inizierà anche il circuito quello dei D'Amatori, dove noi l'anno scorso abbiamo vinto la classifica anche a livello societario. Per quanto ricorda invece i più piccoli, chiaramente voi ci tenete tantissimo ad arruolare i più piccoli sin dalla più tenera età, come sta andando in questo senso il vostro progetto? Il nostro progetto è iniziato già nel 2008, abbiamo avuto la fortuna che l'ASPA a suo tempo ci ha dato l'autorizzazione per poter fare una scuola all'interno del boschetto della cittadella. Va bene, negli anni abbiamo tirato fuori i ragazzini che hanno fatto anche risultati a livello nazionale e nello stesso tempo abbiamo fatto un rapporto di collaborazione con un'altra scuola di Alcamo con cui ormai già collaboriamo da quasi dieci anni e regolarmente tiriamo fuori sempre qualche ragazzo che ci porta dei buoni risultati. L'approfondimento è dedicato a questo giallo al cimitero di Trapani. Sparisce una lapide e viene presentata regolare denuncia ai carabinieri. Vediamo. E' una vicenda da contorni caffiani quella che si è verificata al cimitero di Trapani. A raccontarla una donna che recandosi al Camposanto nell'anniversario della morte della propria madre per portarle un mazzo di fiori scopre che era sparita pure la lapida. Sgomenta si è rivolta agli uffici per cercare di capire cosa fosse accaduto. Un buco nell'acqua. Un vero e proprio giallo insomma. Negligenza, superficialità o qualcosa di più grave dietro a questa vicenda tutta da decifrare e che peraltro non è la prima parola adesso alla magistratura dal momento che la donna ha sporto denuncia ai carabinieri. Un giallo è risolto al cimitero dove senza autorizzazione alcuna è stato essumolato il corpo di sua mamma nonostante il bonifico erogato a favore dell'amministrazione comunale e quindi del cimitero. Cosa è accaduto il 16 febbraio? Il 16 febbraio è accaduto che mi recavo con mio figlio per andare a portare dei fiori sulla tomba di mia madre dove all'interno dell'oculo con mia madre c'erano i resti di mio padre e vado e arrivo sul posto e non trovo niente, non trovo lapide, non trovo proprio l'oculo vuoto. Allora all'improvviso ho detto che è successo qui perché noi fino ai primi di febbraio avevamo rinnovato il posto, avevamo rinnovato tutto, il bonifico era stato fatto in regola nei tempi previsti di legge, quindi vado e mi reco presso gli uffici. Gli uffici non sanno darmi risposta, mi dicono che era impossibile, e mi hanno preso, non mi hanno creduto, perché mi hanno detto signora ce n'è che ha sbagliato strada, ci sono 30 anni che vado lì, non è possibile che sbaglio strada. Mi reco con un operatore del cimitero per andare a vedere che veramente l'oculo di mia madre era vuoto, si accertano di questa cosa, loro avevano già la pratica in mano tutta completa e quindi hanno confermato che eravamo tutto in regola, compreso il bonifico. Quello che è successo non lo so, so solo che il giorno che noi abbiamo fatto il bonifico, loro in contemporanea, perché era il 2 di febbraio, hanno fatto le stimolazioni di mio padre e di mia madre. Al momento le ossa dove sono? Le ossa loro dichiarano che siano in una stanza come ossaia comunale. Io, quello che ho visto, per me non è una stanza comunale, perché è un sottoscala di un colombaio a due piani, insieme ad altri sacchi, perché sono messi in dei sacchi, con solo nome e cognome di mia madre, data di nascita e la data dell'estumolazione. Io a questo punto dubito pure se abbiano fatto qualche altro errore, infatti quando ho fatto la denuncia ai carabinieri ho chiesto l'esame del DNA per essere sicura che quando daremo di nuovo una degna sepoltura, e mi auguro che la procura faccia nei brevi tempi possibili e per dare di nuovo una degna sepoltura a mio padre e mia madre, quindi io chiedo l'esame del DNA perché voglio essere sicura che quando porterò un fiore siano proprio i resti di mio padre e di mia madre. Va bene così.